Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, io sono Serena di Ciaccazione ed eccomi qui con voi di nuovo per recensirvi un film appena uscito, a me molto caro. Molto caro perché? Perché è da circa un anno e mezzo che pratico la box, quindi in italiano il pugilato, e non potevo comunque che farvi la recensione del nuovo film di Michael B. Jordan, dove è sia attore che produttore Creed 3. Come penso tutti sappiano, Creed è il sequel del film di Rocky, con il bravissimo e mitico Sylvester Stallone. Il film uscì nel 1976, quello di Rocky Balboa, e descrive questo pugile alle prime armi che ha de match contro Apollo Creed. Apollo Creed è un pugile professionista. Abbiamo quindi, se non sbaglio, 5 film di Rocky, e nel terzo film Apollo Creed inizia ad essere allenatore di Sylvester Stallone, quindi di Rocky. Questo era solo per dirvi chi è Apollo Creed, perché il sequel si riferisce al sequel di Rocky, si chiama Creed, perché non parla di Apollo, che poi ovviamente nella saga muore, ma del figlio, Adonis Creed, che poi il nome Adonis mi piace veramente tanto. Se dovessi fare un figlio, credo lo chiamerò così. Come vi ho anticipato prima, questo film si chiama Creed, perché appunto è il nome di Adonis Creed, ovvero il figlio di Apollo. Come per Apollo, anche Adonis diventa un pugile professionista. Quindi ci troviamo nel primo e secondo film di Creed, dove lui decide di essere un pugile, e quindi ha delle sfide, vince, perde, si fa una famiglia, eccetera, eccetera. E poi arriviamo a questo ultimo film, dove lui decide comunque di ritirarsi. Una volta ritirato, visto che ha la palestra con il suo vecchio allenatore, quindi decide anche lui di fare l'allenatore, sta organizzando un match molto importante per uno dei suoi pugili. Quando, diciamo, torna, comunque rincontra un amico di vecchia data. Quindi iniziamo a vedere anche un po' il passato di Adonis e quello che gli è successo. Prima però di raccontarvi il film, ma non raccontarvi scena per scena, ma sinceramente quello che ho provato io, se mi è piaciuto o se non mi è piaciuto, vorrei parlare dei protagonisti. Allora, come protagonisti abbiamo attore e anche produttore Michael B. Jordan. E cosa dire di Michael B. Jordan? Vabbè, voi sapete che io sono una fan della Marvel, per i fan della Marvel l'abbiamo visto sia in, ovviamente, Black Panther, che i Fantastici Quattro, anche se era, insomma, il, diciamo, quei Fantastici Quattro, ma non riesco nemmeno a trovare le parole, che l'hanno contato veramente poco. Infatti io l'ho visto quel film solo per Michael. Poi abbiamo la bellissima e bravissima Tessa Thompson, nonché Varchiria in Thor, ma anche lei ha fatto, come Michael, molti altri film e anche molto belli. Poi abbiamo un nuovo protagonista del film, della saga, che è quello che vi stavo, insomma, vi dicevo prima, l'amico del passato di Adonis Creed. E lui è, questo personaggio di nome Damien, è interpretato da Jonathan Majors. Ultimamente lui ha fatto un film con Glenn Powell e Joe Jonas, e io lo devo vedere perché amo Joe Jonas e Jonas Brothers, ebbene sì, che si chiama Devotion, ma soprattutto negli ultimi mesi i fan della Marvel l'hanno conosciuto come il nuovo cattivo della Marvel nel nuovo film di Ant-Man. Ed infine troviamo l'ultimo protagonista, che è Wood Harris, nonché allenatore, che fa la parte, diciamo, dell'allenatore di sempre, di Creed, che è nonché il ragazzo di Il Sapore della Vittoria. Se non avete visto questo film, vi prego, vi prego, vi prego, vedetelo perché è stupendo. Purtroppo non tutti conoscono questo film e non capisco perché. Il nome originale è Remember the Titans, è una storia vera, che, diciamo, è triste e non triste e parla comunque di futbolo. Io ve lo consiglio, ma in ogni caso torniamo a noi. Quindi stiamo parlando di... Questi sono i quattro personaggi principali della storia, e in più abbiamo la figlia di Creed e la moglie, che è una bambina sordomuta, ma troppo intelligente e troppo brava. E poi abbiamo la mamma di Adonis. Come detto prima, troviamo Creed, che, o meglio, Adonis Creed, ha preso la carriera del padre, ha continuato, diciamo, la carriera del padre, soprattutto dopo che il padre è morto e quindi è un pugile professionista. Quindi nel primo e secondo film vediamo come si è formato come pugile, ovviamente Rocky Balboa, quindi Silvestre Stallone, che lo allenava, e invece in questo terzo film vediamo il suo ritiro dal, diciamo che, appeso i guantoni al chiodo. Piccola battuta, di solito si dice per i calciatori che hanno appeso le scarpette al chiodo, ma avete capito il senso. Quindi vediamo lui che nelle prime scene lo vediamo a casa con la figlia, con la moglie, quindi nonostante sia felice di questa vita, però gli manca sempre qualcosa. Nelle primissime scene, invece, incontriamo il passato e quello che è successo con Damian. Quindi vediamo che loro due erano molto amici, erano due pugili che avevano appena iniziato a fare questo sport e forse Adonis poteva avere 15-16 anni e magari Damian qualche anno in più, quando ad un certo punto commettono, diciamo così, un crimine, Adonis riesce a scappare, invece Damian viene beccato e si becca 18 anni di carcere. Perché vi sto dicendo questo? Perché, a parte che è la storia in sé, ovviamente, ma voglio arrivare a questo punto. Di questo film, ora non vi racconterò scena per scena, ma quello che ho provato io. Proprio qualche giorno fa c'è stata una discussione con una persona il quale dice che non esiste nel bene e nel male nel giusto e nel sbagliato, ovvero quello che è giusto per me non è giusto per te e viceversa. Però penso che ci sia sempre una via di mezzo nelle cose e che esiste comunque sempre il bene, il male, il giusto e lo sbagliato. Non sono sempre cose personali, ma se tu fai un atto che comunque non è previsto dalla legge come legale, per me quella è una cosa sbagliata. Arrivo al punto. Damien esce da galera, va a trovare Creed perché vuole sapere, prima di tutto, perché non si è fatto mai sentire e soprattutto vuole una seconda possibilità per diventare un pugile. Quindi Adonis lo inserisce nella sua palestra. Però ormai a 30 anni e passa è anche tardi per Damien rincorrere il suo sogno, ovvero diventare un pugile professionista e vincere il titolo mondiale. Nonostante un sogno che tra virgolette non si dovrebbe avverare, lui vuole fare di tutto, ma lo fa nel modo sbagliato, quello che dicevo prima. Quindi prende in giro l'amico, fa delle cose illegali per arrivare al titolo e alla fine questo titolo lo prende, ma a che pro, a che scopo prende questo titolo? Facendo comunque delle cose che non doveva fare. Quindi Creed diciamo che si arrabbia, decide di tornare in pista e decide di avere l'ultimo match contro di lui e far vedere che tutto quello che ha fatto Adonis nella sua vita è perché se l'è meritato e non perché in realtà lui l'amico Damien fosse andato in carcere perché è proprio questo che diceva Damien ah tu sei diventato quello che sei solo perché mi hai fatto tra virgolette marcire in carcere. Quindi vuole fargli vedere che non è così. Quindi vabbè film è molto scontata si allenano tutte e due e alla fine fanno questo match. Non vi dico chi vince perché sicuramente l'avete capito però non ve lo dico perché se non l'avete capito non vi voglio spoilerare. Comunque questo film è piaciuto perché nonostante sia molto scontato nella storia in sé voglio dire abbiamo visto la trama di questo film l'abbiamo visto in tanti altri non è una novità già dal trailer si sapeva più o meno le cose come sarebbero andate. Quello che però mi è piaciuto è il fatto del non arrendersi mai certo come ho detto prima non si dovrebbero arrivare in alcune situazioni illegalmente o facendo delle azioni contro altre persone perché per me è sbagliato però anche è vero che è sempre giusto credere nei propri sogni. Una domanda che mi sono fatta mentre vedevo il film è stata quella ma rivedremo Silverse Stallone nei panni dell'allenatore di Creed la risposta purtroppo è no è no perché secondo me ci sono anche motivazioni abbastanza monetarie nel senso che con questa triologia Michael B. Jordan vuole aprire vuole un po' stancarsi dal mondo di Rocky Balboa quindi diventare una specie disse in un'intervista qualche tempo fa vorrebbe diventare il suo franchising una specie di Creedverse e no comunque legato a Rocky Balboa sembra che a Silverse Stallone questa cosa non sia andata tanto bene quindi ha deciso di non tornare sinceramente mi dispiace perché l'avrei voluto vedere volentieri nei panni di Rocky Balboa anche come semplice allenatore e comunque lui i cazzotti non li può dare più ma capisco da una parte Michael B. Jordan quando dice vorrei un po' staccarmi dal mondo di Rocky Balboa perché io penso che dopo tre film di Creed sia anche giusto e ha fatto diciamo Michael ha fatto vedere quanto vale sia nel creare comunque le storie dei film e che soprattutto Creed non parla più di Rocky ma parla di Adonis Creed quindi un altro personaggio non vi rubo altro tempo voglio solo dirvi di andare a vedere questo bellissimo film soprattutto per i muscoli di Michael e Jonathan perché credetemi ragazzi vale veramente tutto il film e non mi concentrerò in questo caso sulla fotografia la sceneggiatura in sé e altre cose perché sinceramente come ho detto prima anche se un bel film che mi è piaciuto tanto è molto molto semplice ma sono questi sono i classici film che come li chiamo io non pesantoni che comunque vanno valgono la pena di essere visti quindi mi raccomando andate al cinema a sostenere Michael B. Jordan non solo come attore ma anche produttore perché è davvero tanto bravo e ci sentiamo anzi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao